Oggi parliamo di Pomeriggio 5 e dei rumors che vedrebbero Cesara Buonamici prendere il posto di Mirta Merlino alla conduzione del celebre talk show di Canale 5. La notizia ha fatto molto discutere e ha generato una serie di speculazioni, ma vediamo cosa ha da dire l'attuale conduttrice Mirta Merlino in merito. Il destino di Pomeriggio 5, dopo l'addio tempestoso di Barbara D'Urso, non è stato dei più rosei. Nel luglio 2023 i vertici Mediaset decisero di interrompere ogni rapporto lavorativo con la D'Urso, togliendole, dopo 15 anni, la conduzione del programma. Questa scelta, comunicata in modo piuttosto brusco, ha sollevato molte polemiche. Poche settimane dopo è stato annunciato che Mirta Merlino avrebbe preso le redini del programma. La giornalista affermata ha dovuto affrontare non poche difficoltà iniziali. Le prime puntate infatti non hanno registrato ascolti entusiasmanti, schiacciate dalla concorrenza di La vita in diretta condotta da Alberto Matano. Tuttavia, con il passare del tempo, la situazione è migliorata. Nonostante le critiche, Mirta Merlino si è dichiarata soddisfatta del suo lavoro, sottolineando i complimenti ricevuti dai vertici Mediaset per la sua conduzione. Ora però, con la stagione televisiva che volge al termine e Pomeriggio 5 pronto a chiudere per la pausa estiva, i rumors sulla sostituzione della Merlino si fanno sempre più insistenti. Tra i nomi papabili per la nuova conduzione, oltre a Simona Branchetti e Veronica Gentili, spicca quello di Cesara Buonamici. Il volto del TG5, quest'anno opinionista nella nuova edizione del Grande Fratello, ha riscontrato il favore del pubblico e della direzione di Mediaset, rendendo plausibile una sua conferma anche per la prossima edizione del reality show. Le voci di una possibile conduzione di Pomeriggio 5 da parte della Buonamici hanno spinto Mirta Merlino a intervenire per chiarire la situazione. Secondo quanto riportato da Dagospia, Mirta Merlino sarebbe davvero prossima all'addio di Pomeriggio 5. La conduttrice potrebbe essere sostituita da Cesara Buonamici, con una chiusura anticipata del programma già prevista per il 30 maggio. Il talk show, dopo la consueta pausa estiva, potrebbe tornare a settembre con una nuova conduzione. Ma è possibile che tra le due giornaliste non corra Buonsangue? Secondo i rumors, a causare i malumori tra le due professioniste sarebbe proprio il passaggio di testimone per la conduzione del programma. Tuttavia, Mirta Merlino ha deciso di intervenire per chiarire la reale natura dei rapporti con Cesara Buonamici. Durante la puntata di ieri con ospite proprio Buonamici, la Merlino ha preso la parola. Sono qui con la mia buona amica Cesara Buonamici. Ha poi aggiunto senza peli sulla lingua. Ogni tanto sento, ma tu e Cesara? Noi siamo amiche e non abbiamo assolutamente nessun problema. Questo volevo dirlo. Ogni tanto bisogna dirle queste cose perché qui girano un sacco di bugie e allora è bene chiarire. Cosa ne pensate di questi sviluppi? Credete che Cesara Buonamici prenderà davvero il posto di Mirta Merlino alla conduzione di Pomeriggio 5? Fateci sapere la vostra opinione nei commenti. E non dimenticate di iscrivervi al canale per rimanere sempre aggiornati con le ultime novità su Flash Trend Ita.